Musica 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 Qui siamo alla Fondazione Mediaterraneo di Sestri Levante, in pieno svolgimento un congresso sulle malattie polmonari e precisamente novità nelle malattie polmonari. Ci sono stati tanti lealtori, uno di spicco, forse uno dei maggiori di spicco, anzi senz'altro, è il professore Stefano Nara, direttore della pneumologia dell'ospedale, del reparto di pneumologia dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Benvenuto a Sestri Levante, ha visto che panorama, è meraviglioso. Senta, professore, il Sant'Orsola ha una grande tradizione sulla pneumologia, lei continua questa tradizione? Spero di sì. Come sta andando? Certamente il Sant'Orsola, in particolare Bologna, ha una grossissima tradizione nella materia dell'apparato respiratorio, soprattutto il professor Gunella che è spensionato circa 20 anni fa, che è stato uno dei capostipiti della cosiddetta pneumologia intensivistica nel panorama non solo italiano ma internazionale e si spera appunto di continuare nella tradizione, nella strada tracciata dal professor Gunella. Io gliel'auguro perché ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno qui in Italia di continuare quella tradizione che avevamo, specialmente nella pneumologia eravamo molto avanti, parliamo di Forlanini e compagnia, le tradizioni molto belle. Lei di che cosa ha parlato qui in questa congresso? Allora, io ho parlato di una tecnica particolare che si chiama ossigenoterapia ad alti flussi, una tecnica innovativa nata qualche anno fa in Nuova Zelanda e in Australia, che recentemente ha preso piede anche nel continente europeo e in Nord America e di fatto sostituisce, almeno in certe circostanze, l'ossigenoterapia tradizionale. Ora ce lo spieghi un po' bene perché questa è una cosa molto interessante. Io vedo tante persone col baracchino che camminano per strada con questo ossigeno, se ci fosse… Certamente, allora innanzitutto non sostituisce l'ossigenoterapia liquido a cui lei probabilmente si riferisce, il cosiddetto stroller che accompagna i pazienti insufficienti respiratori nella loro attività quotidiana al di fuori delle loro abitazioni. L'ossigeno ad alti flussi viene utilizzato soprattutto in ospedale, nei pazienti più critici e come caratteristica principale ha quella di avere un sistema di riscaldamento e di umidificazione dell'ossigeno stesso. Noi sappiamo che quando respiriamo, come in questo momento, respiriamo aria che è calda e umidificata. Quando invece ci viene somministrato l'ossigenoterapia tradizionale, riceviamo un flusso d'aria, in questo caso arricchita d'ossigeno, che è fredda e non umidificata. E questo porta quindi a una secchezza delle prime vie aeree e a lungo andare si può andare incontro anche a una distruzione di quello che noi chiamiamo l'epitelio, cioè il rivestimento dei nostri bronchi e quindi aumentare di conseguenza anche le infezioni polmonari, per esempio. Attualmente questo sistema è molto utile, può essere anche prescritto a domicilio del paziente, ma a mia conoscenza non esistono attualmente dei sistemi in grado di accompagnare il paziente quando egli o ella escono dalle proprie abitazioni. Ma sicuramente, visto che la tecnologia, pensiamo solo a quello che è successo ai cellulari, la tecnologia ci aiuterà, io sono sicuramente convinto che nel giro di qualche anno giungeremo anche a poter offrire ai nostri pazienti questo tipo di sistema anche quando camminano piuttosto che quando si svagano. Ma in particolare cos'è una bombola, cos'è uno spray? No, è un sistema, diciamo così, per banalizzare un po' il sistema, è una specie di macchina del caffè americano, quindi è una piattaforma con una cupola che serve appunto a umidificare l'ossigeno e a riscaldarlo e con un sistema di cannule molto simile a quella che noi siamo abituati a vedere quando parliamo di ossigeno terapia tradizionale. Però bisogna attaccare la spina della corrente, no? Beh, come tutte le cose, la batteria può sostituire la corrente, chiaramente per un periodo limitato di tempo. Sì, e quindi lei pensa che questo sarà molto affinato, questa tecnica, e sarà un po' il futuro di questa respirazione. Poi dipende se, come dire, le nostre condizioni economiche permetteranno anche... Bene, buttiamo via tanti soldi, sarebbe bene che cominciassimo a spenderli in questo modo. Lei ha parlato di infezioni polmonari, ma come avvengono queste infezioni polmonari? Beh, nel caso particolare dell'ossigeno terapia prolungata con ossigeno non riscaldato e non umidificato, come dicevo prima, la secchezza, la distruzione dell'epitelio bronchiale, quindi dei bronchi che trasmettono, portano il flusso d'aria che respiriamo all'interno dei nostri pomoni, dei nostri alveoli, appunto questa distruzione rende più suscettibile l'albero bronchiale a infezioni che altrimenti potrebbero essere banali in un soggetto normale. Quindi parliamo di virus, parliamo di batteri, parliamo di antiagenti tipo infezioni fungine, che sono una patologia respiratoria emergente. Mi piace ricordare che quattro malattie respiratorie sono nelle prime dieci cause di morte secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le infezioni respiratorie in particolare sono la quinta causa di morte. La prima delle quattro. No, la prima è... La prima delle quattro, di queste quattro cause. No, la prima è la broncopriomatia caonica ostruttiva, che è al terzo posto. Ho capito. Al terzo posto... Lei ha nominato la broncopatia ostruttiva. Si tratta di ostruzione di quei tubicini che portano l'ossigeno. Ora io sto dicendo una stupidaggine e lei me lo dica subito chiaramente. Ma come esiste l'angioplastica per le coronarie? Come esiste per altre cose? Non si potrebbero sturare con un sistema endoscopico questi tubicini, sturarli e tirare via? Perché è il muco che provoca queste ostruzioni. O no? Allora, una componente è quella che lei dice. L'ostruzione dei bronchi. Quindi il bronco da un diametro regolare si riduce a causa dell'infiammazione, dell'ostruzione eccetera. Però il meccanismo è molto più complesso perché lo scambio gassoso viene a livello dell'alveolo. L'alveolo è una struttura elastica alla fine praticamente dei bronchi che tende ad avere delle alterazioni a seconda delle patologie respiratorie. Un'alterazione può essere quella di un alterato scambio appunto dei gas, quindi dell'ossigeno che arriva dall'aria e dovrebbe arrecchire il sangue e il sangue stesso. Quindi c'è questa superficie di scambio che viene alterata. Oppure in altre patologie ci può essere un accumulo di liquido per esempio. Quindi il fatto di poter inserire uno stand, innanzitutto le ricordo, e anche i nostri telespettatori, che l'albero bronchiale, se lo stendessimo, se stendessimo la superficie di un albero bronchiale, occuperebbe più di mezzo campo da tennis. Addirittura. Ed il percorso naturalmente è molto tortuoso, lei capisce che mettere i tubicini in mezzo campo da tennis sarebbe veramente problematico. E poi capisce la tortuosità anche dei bronchi. Ancora non ci siamo arrivati. Ancora non ci siamo arrivati. Questo sarebbe fantamedicino. Assolutamente sì. Ecco, che cosa si fa a Bologna? In pneumologia Bologna. Allora, a Bologna... Progetti, il futuro di Bologna. No, il presente. Allora, noi siamo stato il primo centro mondiale che ha applicato questa tecnica, che si chiama rimozione estracorporea dell'anidride carbonica. È una tecnica di nicchia, chiamiamola così, ma vicariata da quello che succede per esempio in cardiochirurgia, dove noi, non io in particolare, ma i cardiochirurghi, operano escludendo il cuore dal resto del corpo e quindi c'è una pompa artificiale estracorporea. Allora, il principio è uguale. Quello che noi facciamo è rimuoviamo l'anidride carbonica, il gas cattivo che si accumula nel sangue dei nostri pazienti, soprattutto i pazienti più gravi, per esempio... E che non si può togliere autonomamente. E che non si può togliere autonomamente. E li stagliamo con un sistema di filtri, molto simile, se vogliamo, alla dialisi. Sì. E rimettiamo il sangue depurato dall'anidride carbonica all'interno del paziente stesso. Questa è una tecnica innovativa, l'abbiamo provata sino ad ora in una trentina di pazienti. Quanto dura questa manovra? Questa manovra come minimo dura dalle 24 alle 48 ore. E quanto sangue fate circolare? Non moltissimo, come una trasfusione di sangue, massimo 500 ml, mezzo litro. Questa è la grossa differenza dell'extracorporea che per esempio applicano i cardiochirurghi, dove sequestrano di fatto tutto il sangue che circola. E' come quando si donano le piastrine, che arriva e si prende il sangue, tolgono le piastrine e rimettono il sangue. E' una cosa del genere. E' una cosa del genere, solo che si fa in continuo in questo caso, no? Un sistema di filtraggi che rimuove. E' molto simile alla dialisi, se qualcuno dei telespettatori ha parenti o lui stesso è sottoposto a dialisi, sa benissimo di quello che parliamo. E' una cosa da portare avanti e da diffondere. Assolutamente, è stato oggetto di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e ripeto, siamo gli unici assieme alle molinette di Torino che applicano questo tipo di metodica. Nel mondo, direi. E questo per quali malati? Soprattutto malati, allora, naturalmente sono i malati estremamente gravi, sono i malati di solito con enfisema polmonare o bronchite cronica molto avanzata, che come dicevo prima hanno delle grosse alterazioni a livello degli alveoli, dove avviene lo scambio tra il sangue buono e quello cattivo. E appunto per questo questi malati giungono a un certo punto in cui non riescono più a eliminare il gas, dicevo prima, cattivo, cioè l'anidride carbonica, e quindi hanno bisogno di altre tecniche per riuscire appunto a depurare il loro sangue da questo gas. Ecco, e chirurgicamente tutto questo non si può fare? Nella BCO, la chirurgia, non serve. No, il trapianto, certamente. Sì, va bene. Il trapianto, però, esistono delle condizioni in cui il malato è addirittura troppo grave per sostenere il trapianto, oppure noi sappiamo che in un paese dove c'è paucità, quindi scarsità di organi, c'è anche un limite d'età. E quindi i malati sopra i 60-65 anni non possono sottoporsi all'intervento chirurgico di trapianto. Pertanto c'è tutta una quota di malati ultra 60enni, ultra 65enni che non possono beneficiare appunto del trapianto. Sento, professore, forse dico una cosa che non è esatta, ma a me sembra che la pneumologia si sia un po' seduta dopo aver debellato la tubercolosi. Debellato che ora pare che sia di nuovo. Assolutamente. E ora, e mi pare che la pneumologia si sia un po' seduta a vedere, non lo so, perché i reparti sono stati chiusi, i pneumologi se ne formano molto meno. Ora mi pare invece che con queste spieghi un po' com'è stato questo ciclo del pneumologo. Allora, il ciclo del pneumologo, domanda estremamente interessante. È vero, a inizio secolo, addirittura nel primo dopoguerra, la pneumologia era forse la branca della medicina più importante, a causa dell'epidemia della tubercolosi. Chiaramente abbiamo avuto dei grandissimi maestri, Forlanini uno su tutti, molti ospedali sono dedicati a Forlanini. La tubercolosi era un problema. Poi la tubercolosi è poco poco, fortunatamente è stata una malattia con l'avvento degli antibiotici, non è stata mai debellata ma sicuramente ha diminuito la sua importanza. Io mi ricordo una cosa, guardi, il primo congresso americano che andai ci regalarono una maglietta che conservo tuttora, con scritto in inglese, debelleremo la tubercolosi entro il 2010. E la tubercolosi veniva scritta dapprima in rosso vivo e poi il rosso scendeva assolutamente passando gli anni nel sbiadito e nel 2010 non esisteva più. Questo, ahimè, abbiamo visto, è stata una falsa profezia, per una serie di ragioni che qui non vado ad elencare ma possiamo anche immaginare, e quindi la tubercolosi è ricomparsa. Sfortunatamente nel frattempo sono stati gli infettivologi che si sono presi carico di questa malattia. Un ottimo lavoro hanno fatto, però noi abbiamo abbandonato la tubercolosi. Abbandonato la tubercolosi abbiamo perso molto del nostro carisma e della nostra popolarità. Però lei ha ragione, è nata una nuova polemologia forse, la nuova giovinezza della polemologia. Perché? Perché innanzitutto le malattie respiratorie, come dicevo prima, hanno una preponderanza epidemiologica estremamente importante. E in secondo luogo perché appunto abbiamo affinato delle nuove tecniche, mi riferisco ai disturbi respiratori durante il sonno, di cui in questo congresso si è parlato, della premologia interventistica, cioè la parte broncoscopica, come un po' diceva lei, no? Non andiamo certo a cambiare i tubi, ma sicuramente interveniamo sui tubi. Per esempio diagnosticando i tumori, piuttosto che diagnosticando delle infezioni profonde dell'albero respiratorio, utilizziamo il laser e poi le tecniche di cui parlavo prima, cioè l'ossigeno ad altri fussi umidificato, la ventilazione meccanica, la rimozione estacorporea, assieme a una nuova giovinezza anche dei farmaci. Molti nuovi farmaci sono usciti sul mercato. Quindi direi che ha proprio ragione, la premologia ha avuto un periodo nero, ma lentamente stiamo risollevandoci. Abbiamo perso manualità, abbiamo perso professionalità. Io ricordo quando c'erano quei padiglioni, i padiglioni della tubercolosi, riempivano i piani dell'ospedale. Ma io posso fare una battuta? Meglio pochi ma buoni che tanti ma scarsi. Sicuramente, questo deve essere perseguito. È quello che stiamo cercando di perseguire qui, in questa nostra house, perché abbiamo tre ospedali, uno a Sesti Levante, uno a Lavagna e uno a Rappallo, ma nessuno è completo. Quindi è una tragedia perché la gente va avanti e indietro e quindi ripeto un po', pochi ma buoni. Certo. Questa è la cosa più importante. Questo vale sempre nella vita, eh? Sì, sì, sì. Senta, io avevo conosciuto, una volta ero stato in relazione con un certo Anthony Newman, se lo ricorda, non se lo ricorda. Non me lo ricordo. E' un certo Schmidt di Roma, l'ha mai sentito parlare? Certo, assolutamente. Ecco, anni e anni fa. Certo. Penso sia ancora attivo. No, non credo, non credo che sia attivo. No, attivo nel senso, probabilmente è in pensione, ma anche dopo la pensione i medici tendono sempre comunque... Senta, professore, il futuro, progetti, Bologna cosa progetta? A parte quello che mi ha detto che mi pare che sia già un buon lavoro. Altre novità? Allora, io mi auguro veramente che in una città come Bologna, ma in generale nell'Emilia Romagna, che è sempre considerata anche a livello di media una regione pilota, è un esempio da seguire. Spero che finalmente si incominci un po' anche a parlare di riabilitazione respiratoria. La popolazione invecchia, l'invecchiamento è una bella cosa, ma porta a disabilità. L'unica arma che abbiamo per combattere la disabilità, non sono certo le medicine, ma è la riabilitazione. La riabilitazione è un cardine della pneumologia e deve essere comunque implementata nel nostro Paese, dove devo dire che non ha ancora preso piede come in moltissimi altri Paesi europei. Ecco, questo mi fa molto piacere sentire queste cose, perché il nostro Comitato ha sempre cercato di sostenere la riabilitazione qui a Sestri Levante e vorremmo sviluppare, che fosse sviluppata questa riabilitazione per le forme della pneumologia. Quindi, mi pare di aver sentito che anche se non si fa riabilitazione, però uno che ha un po' di enfisema, che ha un po' qualche malattia respiratoria, potrebbe fare anche un po' di attività fisica da solo, senza bisogno... sì, meglio se c'è la struttura, però anche l'attività fisica singola credo che sia consigliabile, auspicabile. Assolutamente. Allora, naturalmente esistono vari gradi di malattia. Io sono sempre del parere che il paziente è il mio medico di se stesso. Il paziente ha la netta percezione del limite. Il problema è che spesso i nostri malati hanno paura, non di superare il limite, ma di fare esercizio fisico. E tante volte sono pigri. E qualche volta sono pigri, però lei sa che nella vita conta a volte molto di più il colloquio, il convincere chi è davanti a lei che quello che deve fare può essere utile. E il convincimento del malato è un cardine della medicina in genere, non solo della pneumologia. Quindi io veramente penso che sia possibile fare della buona riabilitazione anche da soli. Il problema è, e questo ce lo insegna lo sport, noi possiamo correre e allenarci per le maratone, però abbiamo bisogno di una tabella, altrimenti non riusciremo mai a correre la maratone di New York. Ma bisogna, non dico di un preparatore, ma perlomeno di qualcuno che ci indichi qual è il nostro limite, quello che possiamo e anche quello che non possiamo fare. Vorrei parlarle e poi terminiamo, perché lei al treno, all'aereo, la macchina, all'auto. Mi dicono che aspetta la sua signora in ansia. Va bene, stavo perdendo il filo, ho una certa età. Noi qui avevamo nella nostra asole un reparto di pneumologia. Poi, tirando in ballo questo famoso decreto Balduzzi e queste cose, il reparto è stato smembrato, cioè è stato abolito. Per conto mio non è stata una buona scelta, però questo decreto dice che ci vuole un bacino di utenza almeno di 400-500 mila persone. Però io non credo che sia giusta questa 500 mila persone. Si potrebbe mantenere un centro discreto anche con meno persone. Ora noi ci troviamo qui a Sette Levante, ci sono quattro pneumologi, poverini, si danno da fare, però non riescono, non sono nemmeno motivati, non hanno incentivi, hanno sempre la spada di Damo che poi sarà tutto finito. Invece bisognerebbe, a quanto dice lei, essere sulla palla, bisognerebbe battere il ferro e cercare di questa pneumologia di... cosa dice lei? Eh beh, questa, come dire, è musica per le mie orecchie, chiaramente. Non posso che essere d'accordo con lei, il decreto Balduzzi che per certi punti di vista dei meriti, anche dei grossissimi demeriti, parte e derivano anche dalle nostre colpe, dal fatto che noi pneumologi non abbiamo alzato l'asticella, non abbiamo fatto capire ai politici l'importanza delle nostre malattie. Di fatto è stato un decreto molto penalizzante, soprattutto per noi, il ritorno sull'epidemiologia di questa malattia. Avere quattro malattie nelle prime dieci cause di morte ci pone come cause di morte a stretto contatto con le malattie cardiocardiache e coi tumori. Quindi siamo, assieme a loro, le tre cause globali di morte più importanti nel mondo, non solo in questo peso. Avere penalizzato la pneumologia e non altre specialità è stato colpevole da parte del decreto, ma, come dire, i politici scelgono anche sulla base dell'informazione che ricevono. Quindi vuol dire che noi pneumologi non abbiamo dato ai politici le formazioni giuste. Mi permetto di dire una cosa, io non penso che i pneumologi di Sestri siano demotivati, anzi li vedo molto motivati. Sono, come dire, preoccupati, però li vedo motivati. La motivazione non va mai persa, soprattutto nei momenti più bui non va mai persa. Sì, però bisognerebbe pian pianino ricostituirlo. Anche se non vogliamo fare il reparto con tutte le cose che ci sono, però bisognerebbe che fossero di più, perché qui abbiamo anche la silicosi, abbiamo ancora la silicosi delle cave e poi abbiamo l'amianto dei cantieri navali. Quindi ce ne sono delle cose. Va bene, io, professor Nava, io la ringrazio. Grazie a lei. Mi è piaciuta la sua esposizione, mi è piaciuta lei come persona. Ah, grazie. Perché è molto chiaro e ha fatto capire queste cose. Io ringrazio il nostro operatore Cristian e ringrazio i nostri telespettatori e do appuntamento la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. Alla prossima